A Guzzi non faccia il salvatore della patria, a pensare male, qualche volta ci si azzecca, tirata d'orecchi del sindaco di Fano Massimo Seri al suo predecessore Stefano Guzzi, che oggi riveste il ruolo di assessore regionale alla difesa della costa. Durante una riunione avvenuta ieri in comune con i rappresentanti dei bagnini e i tecnici, Aguzzi aveva ricordato la mancanza di un progetto per l'ultimo tratto delle scogliere di Sassonia, ma anche che sarebbero sfumati 4 milioni di euro per quelle di Metauriglia, ma avrebbe cercato di recuperarli. Alcune imprecisazioni e le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti però non sono piaciute al primo cittadino. Sì, onestamente non ho voglia di fare polemiche, perché poi quando si hanno dei ruoli di responsabilità non possiamo perdere tempo su queste cose, però c'è anche una questione di stile. E francamente fare una riunione e poi di nascosto vedere che l'assessore va a fare conferenza stampa e rilasciare dichiarazioni non è bello. E quando uno fa questo, si dice che qualcosina non è proprio lineare. Allora intanto lo ringrazio, lui è la struttura che ha avuto la sensibilità di mettere in sicurezza allungando le tempistiche per la rendicontazione e quindi questa è una buona cosa. Però poi dire che ci sono delle responsabilità mi sembra eccessivo, perché c'è un cronoprogramma che prevede, che ci ha fornito il provvitorato alle opere pubbliche, per marzo 2022 l'ultimazione dei lavori. In questi anni, prosegue Seri, è stato fatto un ottimo lavoro. Infatti sono stati investiti 8 milioni di euro per la difesa della costa, come mai accaduto prima. Inoltre, aggiunge il sindaco, il progetto di Metauriglia è completo ed è stato realizzato anche grazie a un dialogo con i residenti. Un appello faccio all'assessore, che effettivamente faccia il suo ruolo e ottenga un grande risultato trovando le risorse per il 2023 per il secondo stralcio di Metauriglia. Per quello è la cosa importante. Sono 7 milioni, ma noi ci accontentiamo di 4. Per quello che riguarda Sassonia, mi sembra che non è che non si sa nulla. Basta fare una passeggiata, vediamo quello che si è fatto in questi anni. Oggi già stanno lavorando anche in queste ore per ultimare l'ultimo stallo. Poi c'è un tema che il progetto originario prevedeva questi stalli, perché secondo loro l'effetto era funzionale per tutelare l'erosione della spiaggia. Se questo non è sufficiente bisogna fare un ulteriore stallo. Su questo il Comune si è preso l'impegno di fare un progetto e anche qui, precisa il primo cittadino, non siamo in ritardo, ma in piena sintonia con le tempistiche previste. Ci si chiede di copartecipare. Noi abbiamo copartecipato tante volte, però per 150 mila euro non penso che la Regione vada in dissesto. I Comuni non possono sempre intervenire, copartecipare su tutte le questioni di cui non è neanche la competenza specifica. Poi l'assessore lo sa, ha fatto il sindaco in questa città per dieci anni, quindi adesso al di là delle battute, quindi è consapevole. Io penso che voglia bene a questo territorio, che si impegnerà per fare questo e la prossima volta, insomma con un po' di stile in più. Magari queste cose dichiariamole insieme, senza farlo di nascosto, uscendo dalla porta secondaria di una riunione fatta tra Comune e Regione.